Noi andiamo? Noi andiamo? Non so Che ti ho detto? Una sorpresa? Una sorpresa Una sorpresa anche per voi Eh sì Vero mamma? Sì La mia mamma che sta facendo dei video mi ha detto che dobbiamo camminare un po' Un poco poco, siamo quasi a via Grazie Ci vediamo dopo quando siamo arrivati Non so poco, arriva la mia amica lista Che c'è anche in storia in blu, guardate Siete veramente torti Grazie per essere venuti qui Adesso ci divertiamo Noi andiamo Noi andiamo Noi andiamo Eh sì La riconosco Litori Le ho vissa la tua caccia al tesoro Bellissima Anche di oggi l'ho fatta vedere Ma digli dove lo vuoi Lei voleva adostare la foto Ah qua, dove ci fa la foto qualissima Ok Allora scrivo qui sotto così Come vuoi Sì sì Come vuoi Sì sì Come vuoi Sì sì Guarda un po' Saluta Che io dovevi dire Che io dovevi dire Che io dovevi dire Mi ha detto Guarda un po' Guarda un po' Ma che io dovevi dire Ho visto ho fatto Visto? Sì Aspetta che sta a chiedere Quindi facciamo la foto Un regalino Sei stata contenta allora Sei stata contenta anche la Java va bene alla prossima sorpresa andiamo a due anni